Primo turno degli internazionali d'Italia con Sara Errani che affronta Daniela Anciukova. La tennista azzurra ha ottenuto il miglior risultato in singolare nel 2015 vincendo il WTA di Rio de Janeiro. La Slovacca ha invece battuto l'Errani sei volte su dieci precedenti. Il primo set viene caratterizzato da sette break point in dieci giochi. Fondamentale per l'Azzurra è quello che le permette di portare a casa il primo set sul punteggio di 6-4. Nel secondo Lanciukova domina fino al 5-2. Ma l'Errani riesce a tornare in partita sfruttando i molti errori dell'avversaria. Si va così al tie break che l'Azzurra conquista col punteggio di 7-4. L'Errani si qualifica per il secondo turno dove troverà l'americana Cristina McHale.